Hello Buonasera a tutti Io sono qui per fare la apropista e per ringraziare gli amici automanti che ci hanno regalato questa bellissima serata a cui ci hanno presentato la nuova mia bus Allora facciamo un applauso per la benissima storia del carico della parola di Sone e con i canelli Buonasera a tutti Buonasera Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti per tutto quello che ci avete regalato che ci serve per la vostra presenza Volevo ringraziare il nostro profizio marketing che mi suona per l'organizzazione Michele Maior che ovviamente ci mette sempre qui su e a questo punto per capitare gli amici automanti e poi prima è qui un mese di palco le quattro persone che vedete che stanno in attività professionalmente che sono il direttore delle pari studiari quindi l'automato di Poloni l'automato di Monza l'automato di Trienza e quindi chiamo in san palco Marco Mirko non è preparata ma guarda mia musica Riccardo dove sono? ecco di qua ecco di qua e buonasera buonasera Ecco di qua Ecco di qua Ecco di qua Ecco di qua still can't believe it's not better you